Et ascenderont super latitudinem terre et circumieront castra sanctorum et civitatem dilectam. E si riversarono su tutta la superficie della terra e circondarono l'accampamento dei santi e la città di Letta. Questo, gentili amiche e cari amici, è il versetto dell'Apocalisse di San Giovanni, in cui si descrive l'avvento delle orde di Gog e Magog che si riversano dai quattro angoli della terra. E questo è il versetto, in particolare le parole castra sanctorum, l'accampamento dei santi, da cui deriva il titolo, il campo dei santi appunto, del romanzo di Jean Raspail, di cui vi voglio parlare oggi. Raspail, classe 1925, è stato un giornalista, etnologo, esploratore e romanziere. Ha ricevuto premi e riconoscimenti per diversi suoi scritti, ma quello che gli è valso la fama maggiore è stato quello anche che gli ha portato le maggiori critiche, ed è appunto il campo dei santi. Il campo dei santi è un romanzo distopico pubblicato nel 1973 e meriterebbe assolutamente di venire citato con la stessa frequenza con cui sono citate le altre cosiddette profezie letterarie di cui si sente parlare spesso, per esempio 1984 di Orwell o Il nuovo mondo di Aldous Huxley. L'azione si svolge negli anni 90 e cioè vent'anni dopo la data di pubblicazione del romanzo stesso. E la trama è questa. Nel porto di Calcutta un'orda sconfinata di disperati e miserabili si impadronisce di una quantità di navi e con queste navi inizia una folle traversata alla volta delle coste europee. La traversata si risolve in una vera e propria odissea allucinante, durata due mesi. Due mesi durante i quali i governi occidentali hanno il modo di predisporre un'azione concreta, un'azione comune e condivisa o di cercare una soluzione al problema che rappresenterà lo sbarco di un milione di immigrati dall'Oriente sulle coste europee. Ma per una serie di motivi che la SPA e l'analisa nel romanzo questa soluzione non verrà trovata. Il tutto si svolgerà in tre giorni sulle coste del mezzogiorno francese e tre giorni durante i quali si compirà il destino del mondo bianco. Capite bene che con una trama di questo genere il romanzo non poteva che attirarsi le consuete critiche di razzismo, fascismo e quant'altro. Ma Raspail ci tiene a sottolineare che davvero non è questo il punto. Come disse Jeffrey Hart, un professore di Harvard, Raspail is not writing about race, is writing about civilization. Cioè Raspail non scrive a proposito della razza ma parla della civiltà. E Raspail stesso ci dice Il nostro mondo si è formato in una straordinaria diversità di culture e di razze. Gli scontri che ne derivano non sono scontri razzisti e nemmeno scontri razziali. Fanno semplicemente parte del movimento perenne delle forze che si oppongono. Semplicemente una volta il rapporto di forze era nostro favore. Oggi il rapporto di forze è diametralmente opposto. La domanda quindi che percorre tutto il romanzo dalla prefazione di Raspail alla conclusione è Che fare? Sì, che fare? Perché è vero che ogni popolo e quindi ogni nazione, ciascuno contemporaneamente, ha diritto di lottare per preservare le proprie caratteristiche e la propria identità in nome del proprio passato e per il proprio futuro. E continua a Raspail nelle sue considerazioni dicendo Nella sfera delle nazioni, delle razze e delle culture, come nella sfera degli individui, è sempre l'anima a vincere le battaglie decisive. L'Occidente non ha più un'anima. Questo è il cuore del romanzo, non il razzismo. Il come l'Occidente ha perduto la sua anima. Il romanzo mette a nudo il cupio di solvi del mondo occidentale. Quello che Spengler chiamava la volontà di suicidio della razza bianca. Raspail ha le idee ben chiare su come la Francia sia venuta a trovarsi nella situazione in cui si trova nel romanzo. Ha un'idea ben chiara di quali sono le responsabilità. La radicalizzazione delle comunità straniere sul territorio del paese. La fortissima pressione psicologica esercitata dalle associazioni umanitarie. L'estendersi di questo Vangelo sociale propugnato da molti rappresentanti delle gerarchie ecclesiastiche. Il falso pacifismo. E per finire la volontà di nascondersi la verità che ha l'opinione pubblica. C'è una conversazione che avviene fra il presidente francese e uno dei suoi ministri che è chiarificatrice a questo proposito. Il ministro dice Viviamo nel secolo del verbo dissolutore. Le parole ci hanno dispensato dall'agire in attesa dell'ineluttabile perché sapevamo che l'ineluttabile era al di là delle parole. Tutte queste circostanze spuntano le armi dell'Occidente e vengono meno le due nozioni fondamentali che avrebbero dovuto attivare la resistenza all'interno dei paesi occidentali e cioè il concetto di aggressione e il concetto di difesa. Perché? Perché questa massa, peraltro disarmata, di miserabili che si avvicina alle coste europee suscita troppa pietà non può essere percepita come un pericolo. E qua invece sono le parole del presidente sudafricano altro personaggio che compare all'interno del romanzo che chiariscono la situazione. C'è un momento nello svolgimento della trama del romanzo in cui questa flotta di immigrati può scegliere fra due strade l'attraversamento del canale di Suez o la rotta del capo di Buona Speranza e sceglie quest'ultima. Per cui i governi europei cercano di convincere il Sudafrica ad accogliere, ovviamente con l'aiuto dell'Europa che manderà fondi, che manderà uomini, che manderà aiuti di tutti i generi cerca di convincere il governo di Sudafrica ad accogliere gli immigrati e il presidente sudafricano risponde con un discorso spietato e cinico all'apparenza ma di tutela del suo paese e risponde che non esiterà a fermare lo sbarco di questa gente e chiarisce il perché. Le sue armi sono la debolezza, la miseria, la pietà che essa suscita e il simbolo che essa ha assunto per l'opinione pubblica mondiale. In questa guerra razziale che infuria a livello di idee la non-violenza è l'arma delle moltitudini, la violenza quelle delle minoranze aggredite. L'opinione pubblica in generale è paralizzata nel suo comportamento dai suoi complessi, è paralizzata da quello che Raspail chiama il terrorismo verbale dei mass media e delle istituzioni che hanno gravi responsabilità anch'esse nello svolgersi di questi avvenimenti e ha paura di essere condannata per il reato di l'eso tabù, come succede ad alcuni dei personaggi del romanzo. La domanda dunque è in mezzo a quale groviglio di stereotipi e di sentimenti artificiosi bisogna cercare per scovare un briciolo di odioso coraggio da contrapporre alla pietà? I mass media, dicevamo, sono tra i principali colpevoli della nascita di questa situazione. I mass media, dice Raspail, che sono colpevoli dell'uso scandalosamente distorto di uno strumento di comunicazione di massa da parte di coloro che con il pretesto della libertà praticano il terrorismo culturale. A furia di voler ammettere tutto, ci siamo esposti al rischio insensato di dover affrontare tutto, da soli e contemporaneamente. D'altra parte, non si può neanche più contare sull'esercito perché, come dice l'autore, per molti anni si è instillato nei nostri popoli con tutti i mezzi il disprezio per il proprio esercito. Non si può più opporre l'esercito a tutti quegli idealisti da osteria, da campus universitario e da sagrestia, che al grido di siamo tutti uomini del Gange, gli slogan impazzano anche all'interno della società descritta da Raspail, si preparano ad accogliere la massa di forestieri. Sa bene tutto questo il colonnello, un altro dei personaggi chiave del romanzo, il colonnello che guida l'ultima resistenza della Francia sulle coste e che ammonisce i suoi uomini. Il nemico, quello vero, si trova sempre dietro le linee, alle nostre spalle, mai di fronte a noi o al nostro interno. Altra responsabilità nella situazione ce l'hanno gli immigrati già presenti sul suolo francese. sono loro, infatti, a versare il primo sangue in tutta questa faccenda, non i disperati uomini del Gange né le forze dell'ordine francesi. Il tradimento regna anche fra i religiosi. La distruzione del sacro e lo scempio dell'antica liturgia non erano avvenuti per caso e molti avevano esultato nel consegnare spontaneamente al nemico le loro armi migliori. Il sacro non aveva più bisogno di Dio, la liturgia celebrava soltanto l'essere umano sulla terra e i preti, sbarazzatisi finalmente del fardello divino, avevano potuto riprendere, come tutti gli altri, la condizione di uomini ordinari. L'arrivo della flotta degli uomini del Gange, ribattezzata l'Armata dell'Ultima Chance dai mezzi di comunicazione, è atteso per la giornata di Pasqua e il centro del romanzo, sia fisicamente, perché si trova proprio nelle pagine centrali, sia idealmente, è il discorso del Presidente della Repubblica Francese, atteso da tutto il mondo con il fiato sospeso, che deve dare istruzioni alle forze armate. Il Presidente sente su di sé la responsabilità di una decisione terribile in ogni caso ed è schiacciato dal peso di questa responsabilità. Egli sa bene di dover rifiutare ai migranti questa ultima chance perché la Francia possa avere la sua di chance. Egli sa bene che se la Francia avesse ceduto in quel momento non sarebbe stato mai più possibile tornare indietro. E non solo. Sa bene che dopo che la Francia fosse caduta in ginocchio in questa situazione nessuna altra nazione mai avrebbe avuto il coraggio di compiere il genocidio necessario, terribile, che non aveva potuto compiere il Paese dei Lumi. Il Presidente dunque si rivolge alle sue forze armate ma all'ultimo momento non riesce a pronunciare le parole che dovrebbe e anche egli delega. Delega ai suoi soldati la responsabilità e il suo discorso si conclude così. Così qualunque cosa accada Dio ci protegga o ci perdoni. La cifra stilistica del romanzo è la fusione fra un tono sarcastico e irridente e un pessimismo di fondo che non viene mai meno. con il quale Raspail colpisce efficacemente tutti gli utili idioti del sistema politici, giornalisti, ecclesiastici, pacifisti che altro non fanno che accelerare il decadimento dell'Occidente. L'alternarsi continuo fra voci ufficiali non so, le interviste radiofoniche che vengono citate nel romanzo gli articoli di giornali, i documenti pubblici e invece i discorsi e i pareri privati rende bene l'idea dell'esistenza di una verità pubblica quella dei governi e dei mass media contrapposta a una verità più vera e tragica che viene tenuta nascosta. Tante sono le voci che parlano nel romanzo ma i due grandi personaggi collettivi che si contrappongono in realtà in questa azione tragica sono l'ottusa e cieca opinione pubblica occidentale e l'invece assolutamente determinata folla degli uomini del Gange. Al di là dunque delle considerazioni dell'autore non mancano scene realmente potenti per esempio l'incontro fra i vecchi monaci in processione mentre portano il santo sacramento e gli ultimi venti ussari rimasti a difendere le coste francesi e di cui Raspail scrive il fantasma dell'esercito aveva salutato il fantasma della fede. Suggestivi e fin anche commoventi anche i rituali apparentemente insulsi fino a sembrare quasi grotteschi celebrati dal colonnello e dai suoi uomini ultimi difensori dell'Occidente che anche qua come dice Raspail è anche questo, l'Occidente è anche questo una certa forma mentis preziosa una connivenza di esteti che porta a comprendersi immediatamente coloro che la condividono quindi l'abbigliamento, la cura nell'abbigliamento le cene ricercate, le tavole apparecchiate che ricorda un po' la scena tagliata dalla versione originale di Apocalypse Now ambientata nelle case dei coloni francesi che rappresentano appunto questo momento di passaggio e di fine della civiltà occidentale in terra straniera e ancora ecco soprattutto non lascio indifferente il lettore almeno per me è stato così la descrizione violenta e plastica della folla dei disperati del Gange del loro movimento come un'onda unica un corpo senza anima, senza volto che annuncia il suo arrivo con il fettore insopportabile quasi visibile e tangibile che emana da queste navi dove hanno vissuto in condizioni allucinanti per due mesi interi i corpi in mezzo alla loro sporcizia e i loro escrementi come dice anche qua Raspail i corpi malnutriti e sudici troppo orrendi, troppo disgraziati troppo derelitti, troppo spaventosi un orrore che avanza in testa agli invasori come una bandiera piaccia o non piaccia dunque che lo si consideri una profezia o lo si consideri semplicemente una sincera lettura di eventi ormai già in movimento il Campo dei Santi è un libro potente che lascia il segno e che credo debba ritrovare il posto che merita nella letteratura degli ultimi decenni del Novecento non posso che consigliarvelo buona lettura grazie a tutti grazie a tutti